Ciao a tutti, dove sbagliano in amore i segni zodiacali? Prima di scoprire questo tema, di affrontare questo tema, iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco e iscriviti al mio nuovo canale Felicità e Benessere di cui ti posto il link in descrizione. Allora, vediamo dove sbagliano in amore i segni zodiacali. Partiamo dai pesci. Eh no, partiamo dall'arriete, scusate, partivo dalla fine, partiamo dall'inizio, dall'arriete. Allora, l'arriete ha questa caratteristica che è troppo impulsivo, quindi sbaglia per impulsività, soprattutto se si lascia trascinare dall'ira, quindi l'arriete deve moderare l'ira. Poi abbiamo il toro. Il toro, lo sbaglio che fa è che fa dei confronti col passato, cioè se ha avuto una... I tori di solito hanno delle relazioni importanti e quando inizia una relazione nuova purtroppo hanno questa caratteristica di, per così dire, confrontarla con il passato. Quindi evitare questo perché non è positivo. Veniamo poi al seno dei gemelli che, come al solito, la difficoltà che hanno è quelle che sono altalenanti. Sono umorali, cambiano l'umore rapidamente. In amore questo alla lunga non funziona. Abbiamo poi il cancro che ha come caratteristica negativa, diciamo in amore, la permalosità. Il cancro è veramente eccessivamente permaloso. Poi passiamo al seno del leone. Il seno del leone è un'altra caratteristica che non è eccessivamente positiva nelle relazioni sentimentali, che vogliono avere sempre ragione, non ammettono, diciamo, di avere torto. Si ostinano nel voler avere ragione a tutti i costi e questo spesso compromette le relazioni. È un po' simile il segno della Vergine, che è un segno iperrazionale, che quindi non ammette di commettere degli errori, cioè non ammette di fare degli errori. Passiamo poi al seno della bilancia. La bilancia è un segno esteta, particolarmente, diciamo, attivo da questo punto di vista, e come caratteristica ha quella di, diciamo, di essere giudicante. Giudica gli altri. Anche questo, quindi, non va assolutamente bene, perché nelle relazioni sentimentali meno si giudica, meglio è. Poi abbiamo lo scorpione. Lo scorpione pretende eccessive attenzioni passionali. Lui è in grado, o lei è in grado di darle, però talvolta pretende eccessivamente da questo punto di vista. E poi abbiamo il sagittario. Il sagittario è un po' egoista, dà poco e pretende tanto, insomma. Questa è la caratteristica negativa del sagittario. Abbiamo poi il capricorno, che è eccessivamente riservato, si apre poco, non manifesta spesso il suo vero sé all'altra persona, resta chiuso in se stesso. Poi abbiamo il segno dell'acquario, che talvolta è eccessivamente passivo. Non prende iniziative e quindi, anche qua, spesso non viene visto, questo non viene visto spesso nel modo giusto. Poi abbiamo i pesci, che sono eccessivamente accudenti. Il segno dei pesci è veramente un segno che accudisce, 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 e questo però non, alle volte, stufa e stanca un po' le altre persone. Bene, per questo video è tutto. Seguimi anche sulla pagina Instagram Massimo Terramasco. Iscriviti al canale. Iscriviti al mio nuovo canale Felicità Benessere, di cui ti posto il link in descrizione. Ciao a tutti.